Chiaramente noi siamo da sempre, è stato detto e non potrei non ribadirlo anch'io, la patria del genio e della scienza, la nostra storia è una storia costellata di scoperte straordinarie che hanno cambiato il corso della storia, da Archimede a Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Guglielmo Marconi, Enrico Fermi, Carlo Rubbia, Fabiola Giannotti. Nei secoli noi abbiamo scoperto strade che altri non avevano neanche immaginato e siamo stati spesso all'avanguardia dei tempi, è una capacità che nel nostro popolo è innata, perché vale la pena di ricordarlo? Non vale la pena di ricordarlo per ridolatrarci, per dirci che siamo stati bravi, vale la pena di ricordarlo perché delle volte penso che tutti noi abbiamo la consapevolezza che è come se a un certo punto l'Italia, soprattutto negli ultimi tempi, si fosse convinta che aveva perso quella capacità di insegnare al mondo qualcosa.